Ah, un po' bello di YouTube. Io sono Indy e benvenuti in questo nuovo e fantastico video. Oggi sono qua su SCP Secret Laboratory. Sono passati mesi da quando, diciamocelo, ho lasciato SCP al suo destino, pensando che fosse tutto quanto finito, che non ci mettessi più piede in questo gioco qua. E invece, beh, hanno fatto un nuovo aggiornamento. E questo è il Mega Patch. Quindi hanno aggiunto nuove cose, nuovi fattori, nuove mappe, o almeno nuove cose sulla mappa originale, e eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, fan cucciolo, andiamo a vedere che cacchio c'è da combinare in questo server, in questo gioco. Salve e benvenuti in questo nuovo e fantastico, non lo so cosa. Se, dopo anni millenni in cui mi sono detto la frase, non toccherò mai più questo gioco, sono ritornato. Inception. Diboi, smadaf***a! No, 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 no! No, 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 levati, levati. Ho una torcia, ho una torcia. Ma almeno mi lasciate qualcosa, porca p... No, ste calmo, braga, ste calmo. Guarda, guarda, guarda. Puzzola? No, almeno, almeno... La cosa? Spera, un po' un po' un po' un po', guarda. Oh, l'hanno levata dal gioco tanto. Torza, sì! Grazie. È una bellissima torcia. Ora andiamo verso... Qua! Se le porte sono chiuse, si vuole sapere la zona delle porte chiuse. Ah, ciao, vedi, non c'è nulla. Che cazzo è questa cosa qua? Allora, cosa vuoi... Cosa è questo? Cosa è questo? Allora, queste sono delle pillole che praticamente prendendole ti curano da ogni cosa. Ah. Ti danno vita e... Ma poi è una seringa, signorindi. Dipende, dipende, è pulita? È pulita? Sai com'è? Non voglio beccarmi qualche... Sì, è pulita, è nuova. Ok, vai, dammi la seringa. Tenga pure. Oh, grazie. Ma io chi la tirerei addosso? Fai freccette con la seringa, fai freccette. Esatto, esatto. Oh, te ne sai che è armato? No, quando c'è... No, vabbè c'è... No, Fabix... Guarda come li inseguono. Guarda come li inseguono. Eh? Portali! Stupro di massa qui, stupro di massa. What the fuck? Allora... Com'è? È stato commesso uno stupro. Un attimo. È noto che è stato commesso uno stupro, noto, noto con piacere. No, 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 no. Non è morto, sta dormendo. Andiamo. In quella posizione... Aveva sonno, è un colpo. Sta pulando il muro. In quella... In questa posizione sta dormendo. È certo. Stava pulendo il muro perché è appicciato. Era così stanco che... Non aveva tempo per trovare una posizione. È così che si è accasciato. Ecco, ecco, vedi, lui dorme bene. Non è vero, non è vero, non è vero. Andiamo, andiamo. Sta dormendo molto bene. Ma è normale che vedo macchie di sangue che sono... Wow. No! Hey, hey, hey! Ho! Let's go! Hey! Ho! Let's go! Tanananananana! Scappate! Via! Via fuori dalle palle! Numa, numa, yeah! Numa, numa! Oh! Ok! Oh, ciao! Allora! Qui è morto Riccardo Milos, poverino. Lino! 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 Ciao! Ciao! Addio! È stato un piacere! No, non è... No! No, non è... No, non è... Dimmi! 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 Ok! Prima cosa, con l'avvio ora puoi parlare con la radio, quindi nessuno spamma ora... Sì, che bello! Aspetta! Beh, davvero? Ah, se la mente... No, non mi si sente! Oh, si sente! No, aspetta! No, non sento... Non sento, aspetta, provo... Mi senti con la radio? Mi senti con la radio? Mi senti con la radio? Mi senti? Mi senti? Eh, non va! Aspetta, proviamo! Gli sto dicendo come funziona la radio? Escusami se non sa nulla! Prova, prova, prova... No, pro, 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 pro... Ah, ma non è B! Beh, è V! Porca puttana! Di V, non B! È V! Ehi, tu hai detto B! Tu hai detto B di Bologna! Tu hai detto B! Tu hai detto B! Tu hai detto B! Ho detto B, ho detto V! Ho detto V, ho detto V! Oh, non mi dite te le due, c'è tu un cazzo! Io non lascio... Oh, le tighe dentro di voi! Che cazzo! Puoi mettere... Un sacco di roba, cazzo! Ah, hanno aggiunto il sangue! Ne ho visto abbastanza! Tra cui alcune volte tipo... In mezzo alle porte, tipo spammato sulle porte! Apri le porte e il sangue vola! Oh, guarda! Guarda che bello! Guarda che... Guarda lo scopo! Guarda i scopo fighi che hanno aggiunto! Guarda! Scusi lei! Grazie! Grazie mille! Grazie mille per il suo tablet! Grazie mille per il suo tablet! Eh? No, non funziona così! Tipo prendi il tablet dell'altro! Oddio! AAAAAA! AAAAAA! T-Mine! Indy usa il Medikit! Usa il Medikit! Usa il Medikit! Indy! I rumori di quando si sentono i rumori di quando si apre la porta! Sì sì! Guarda che fila! Oddio! Hanno... Hanno fatto... Hanno migliorato alcune cose! Tipo adesso si vede il... Il laser che... Ok! Un po' più movimentato! Mi piace! Mi piace! Mi piace! Sì sì! Ma doh... Sembra... Sì sì! Tipo quei cosi per tagliare la legna! Le segui circolari per tagliare la legna! VUUUUUUUUUUU! VUUUUUUUUU! Andiamo! Andiamo! Salve! E benvenuti in questa nuova e fantastica radio! Quindi chi è che è con me? Ciao! Avevo buttato la radio e poi alla fine ti ho sentito! Stavo per buttarvi alla radio ma poi l'ho sentito te! Ah! Ok! Va bene! Buon salve! 079 il dottore se ricordo! Sì! No! Ah, non c'è No, aspetta, controlliamo No, non c'è, o sì, non lo so Andiamo indietro Sai com'è, sono tutti con 0,70 0,71, 0,72 0,73, 0,74 Sembrano tutti degli ordini del Big Mac Ma va bene Non lo so, mai che ci sia un 106 107, 201 No, tutti 0,70 Che cazzo c'è con 70? Andiamo di sopra Io ho troppa confusione A parte per il mio amico cagnonino Che mi ricordo che era il 0,90 No, non era il 0,96 Quello era il cane Inizia con 9 0,79 Ho detto che inizia con 9 Non che finisce Sai com'è, ormai il 70 è dentro la mia testa Non esce più Tu, fermo lì 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 Stop right there You criminal scam Stop right there Ah, ok Ok, vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Sports nehme Salve io vado Io vado Ok Skpa Scappa Skpa dai come on fuck intanto ci mettiamo un po' di medikit ora ambaraba ambaraba ciccicocco tre civette sul no quello lì uno due tre quattro è questa la fortuna è con me e con il mio spirito oh hey hey ho let's go hey ho let's go ah cazzo dannazione dannazione snake I'm home oh fuck what what ah è morto coglione poverino dai poverino oh non dietro oh hey no fermo fermo lì fermo lì no cari 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 fermo torbamu torbamu voglio fare un patteggiamento con te no fermi lì fermi lì fermi lì fermi lì fermi 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 ok voglio fare voglio fare un voglio fare un patteggiamento voglio fare un patteggiamento Ho detto che collaboriamo Ok va benissimo Però prima voglio prendermi un po' di medicinale No 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 Sì Sì Perché c'è nocciolina sotto il pavimento Ciao nocciolina Ciao nocciolina come stai Vedo più sangue qua per terra che altro Guarda quanto sangue madonna santa Guarda quanto sangue Dimmi 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 Cosa c'è Cosa vuoi fare Ok andiamo let's go Come on Dove si trova la gente Ok trovate la strada Ok ho trovato la strada Di qui No intendo solo l'unico caos rimasto Mi sa perché caos non ce ne sono più Vai via ti distruggo E invece E invece Io Che cazzo è quella cosa lì Weee 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 Dammi il 5 Dammi il 5 Dammi il 5 Aia Ah Alexa c'hai lì Quel 5 non mi piaceva Devo fare un paio di cose tipo questo Grazie signore I'm still a virgin Ok allora facciamo una piccola cosa tipo Ehm No tu resti Resti Tutto What the fuck Cos'era quell'urro Ok allora vai con lui Vai con lui Io vado di sopra Ciao Ma allora Chi Fuck 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 Ok Ehm Don consiglio Non entrare Andiamo subito No fermo Ok scusi Era entrato con un altro tizio Cioè Con un altro tizio Che fine ha fatto Vabbè Allora Prima dobbiamo potenziarci la carta Dobbiamo Oh No grazie No grazie No grazie No grazie Bellissima la battuta Ok ragazzi Non potenziarci la carta Apro la porta Mi ritrovo il cane davanti Ok 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 ragazzi Tempo di andare a potenziarci la carta Apre la porta E si trova il cane Ancora no Ancora no Apre la porta E si trova il cane Ancora no Ancora no